Don't eat the world, YouTube it for you Sì 95, beh, poteva uscirci in una versione migliore Vabbè, ce lo prendiamo così Vada per il 95, dai Adesso un bel bail Bail 92, ok Riequilibriamo, va benissimo Adesso un bel attimo Fantastico ragazzi Griezmann 95 Perfetto, perfetto Dai, 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 dai Ronaldo 99 E andiamo, e andiamo Trattaci bene con i centrali Allora io direi, Modric iniesta Di prendere Modric 88 Anche se quanto è bello Pogba, però, prendiamo Modric 88 E ora un bel iniesta 95 No Dai, 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 dai Dai, 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 dai Non posso Prendere Godin 86 Prendiamo Matiu Dai Nemar 96 Ragazzi Abbiamo Abbiamo Adesso Veramente Un attacco E un centrocampo Fortissimo Ci serve Soltanto qua Iniesta Assolutamente Dobbiamo rifare la difesa Quindi Diamo subito Priorità ai difensori Ma Non escono Quindi Royce Eh no Ragazzi No Era partito Benissimo Questo draft Veramente Era partito Troppo Bene Sto draft Troppo Troppo Bene Almeno Sono riuscito A fare 190 Però Guardate qui Che rabbia Ragazzi Io ho spostato La cam Fare 190 Perché Abbiamo Un argentone In campo E due Proprio Che 76 78 Qua Che non si possono Proprio Guardare E fare 190 Ragazzi Se qui usciva Un centrocampista Decente E due Difensori O un difensore Il portiere Decente Veramente Era tanta Tanta roba Ma riproviamoci Subito Che culo È uscito Di nuovo Il 3 4 2 1 Anche se abbiamo Il 3 4 Il 4 3 3 Offensivo Che è pure carino Ma io penso Di prendere Il 3 4 2 1 In modo Che se ci escono I 4 pezzi Di BBVA Neymar Bale Messi E Ronaldo Possiamo piazzarli Meglio così Quindi vada Col 3 4 2 1 Dai 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 Ok Allora Qui direi di partire Subito da Neymar 92 Poi Andiamo con i centrocampisti Su 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 Prendiamo Modric E ragazzi Che bello Messi 99 Andiamo Bella Suarez Suarez Anche la leggenda ci sta Però Suarez 97 E vai E vai Dai 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 La difesa Mascherano Perfetto Un bel godin 95 Godin 95 Godin 95 E invece escono Gli Argentoni Mannaggia Gli Argentoni Dai 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 Qui abbiamo Bale Rodriguez Direi di andare per Bale Su Forza ragazzi Forza Ma quanto sei cattivo Gioco Ronaldo 97 Iniesta 90 E ma Optiamo per Ronny 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 Optiamo per Ronny Mi è assolutamente Ragazzi Ora qua Ti prego Daniel Vestoti Daniel Vestoti Attenzione Per ora ragazzi Siamo a 191 Con un allenatore Brasiliano Arriveremo a 100 Con un allenatore Brasiliano Riusciremo a fare 191 Dai Brasile 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 E non è uscito Che cazzimma Che cazzimma Però lo facciamo lo stesso Il 100 Ragazzi Non subito Perché Vi spiego Basterà mettere Rakitic In campo Allora adesso abbiamo 99 Più 91 Ci dirà 190 Ma attenzione Perché Perché Basterà fare Questa piccola Mossa Modifica Formazione Tac 191 Ragazzi Quindi Così ragazzi 191 Io voglio provarci L'ultima volta Abbiamo fatto 190 Abbiamo fatto 191 Mo Saltiamo il 92 Facciamo 193 Dai Proviamo ragazzi Come ultimo modulo Il 4 3 2 1 Dai Portaci bene Il 4 3 2 1 Dai Modric 93 Totti Tutta la vita Tutta la vita Tutta la vita Che qua ce ne servono 3 I centrocampisti Buoni Abbiamo Pogba 93 Me ne direi di prendere Niesta No Neymar 90 Che comunque L'overa al più alto Puntiamo a metterci Ronaldo Quindi dai Qui Mi devo scemessi E non è scemessi Esce Bale Almeno la TT Esce il Suarez Nemmeno Vediamo il più alto Eccolo qua Messi 99 Andiamo ragazzi Andiamo ragazzi Dai Poi Di Maria Poi Ronaldo 98 Andiamo ragazzi Dai Dai Un bel ATT Suarez Suarez Non esce Però abbiamo Un Tevez Che almeno Ci fa fare Uno straccetto In più di intesa Mi fanno incazzare Vabbè A sto punto Prendo l'AM 90 Dai portiere Almeno il portiere Almeno il portiere Esce Keylor Snavas Ci fa fare Il 99 Di intesa Quindi 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 Aggiustiamo un attimo La squadra Ora Ho un allenatore argentino Un allenatore portoghese Per farci fare Questo 190 Dai Ho portoghese Argentino Portoghese Eccolo qui Quindi 190 Ragazzi Abbiamo fatto Un 190 Un 191 Un altro 190 Bene ragazzi Vi finisci qui Abbiamo fatto Un 190 Un 191 Un 190 Se sei arrivato Fino a questo punto Commenta con l'hashtag Cipolla E al prossimo video Ciao belli Grazie 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 Grazie